Gentili telespettatori, buona giornata. Vi comunico le parole esatte di Nordio, ministro della giustizia, che ha riferito al Senato. Il ministro dice questo. Gli atti riferiti a detenuti al 41 bis sono per loro natura sensibili, ragion per cui ai fini di un'ostensione occorre una preventiva verifica, occorre verificare il livello di segretezza e se il destinatario potesse divulgarli. Poi aggiunge, non posso rispondere alla domanda in quanto è stato aperto un fascicolo da parte della procura della Repubblica di Roma. Di fronte a queste parole l'opposizione ha vistosamente protestato con un boato. Nordio dice sono atti sensibili, per natura stessa tutto quello che succede all'interno del 41 bis è sensibile di per sé e per parlarne fuori di quello che succede, un'ostensione la chiama, occorre una preventiva verifica del livello di segretezza e se il destinatario può parlarne. Però al momento di dire se queste comunicazioni erano segrete o no, dice non posso rispondere per rispetto alla magistratura. Naturalmente Donzelli non ha riferito che cospito è andato al bagno, ha riferito che stava parlando con i capi della mafia detenuti per accordarsi e dire ci penso io, la mia protesta è anche per voi per cancellare il 41 bis. Secondo voi, secondo voi, così, una dichiarazione di questo tipo quando Nordio dice bisogna valutare se si può raccontare a tutti gli italiani una cosa del genere. Ovviamente che no, ovviamente che no e Nordio lo sa perfettamente, solo che dice eh non posso dire niente perché per rispetto alla magistratura. Quindi Nordio non ha voluto dire che quei documenti erano coperti da segreto d'ufficio e non potevano essere rivelati. Ma non lo dice perché quel Donzelli è nel suo partito. Tutti e due sono al governo del paese con Giorgia Meloni che è il capo, Nordio di qua e questi due dall'altra parte. Ministro della giustizia, furioso, Meloni, furiosa, con questi due personaggi un po' curiosi, se mi permettete il termine, molto baldanzosi. Non so se l'avete visti nelle interviste. Io adesso vi racconto un'altra, non c'è niente di segreto. Credo che questi due signori non abbiano capito appieno quali siano le leggi e le regole dei politici, che cosa siano delle informazioni riservate, sensibili, segrete. Nonostante uno sia vice del Copasir, forse un ripassino su che cosa siano le intercettazioni da parte degli apparati di sicurezza. Gli apparati cosa sono? Sono delle strutture nascoste. I servizi segreti non sono una struttura. La struttura è una cosa visibile. Gli apparati sono delle strutture segrete, nascoste. Perché nascoste? Operano nell'ombra per la difesa, la difesa dell'ordine democratico, la difesa dei quartieri governativi di Roma Capitale, la difesa militare, informazioni che servono per la sicurezza militare del paese e per la sicurezza civile. Io ho piena fiducia negli apparati di sicurezza del paese e se delle informazioni sono coperte da segreto non può arrivare il primo donzelli che arriva al governo e si sente chissà chi, visto che passa il tempo in televisione e andare a rivelare delle informazioni coperte da segreto. È una cosa, io vi ripeto, gravissima. Che molti non hanno capito quanto è grave. Molti non lo hanno capito. Molti difendono donzelli solo perché è di Fratelli d'Italia. Allora dobbiamo fare tutti una bella fratellanza. Perché parli male di donzelli? Devi solo riferire le notizie, non devi parlare male, non devi dare le tue opinioni perché donzelli fa parte di quelli che abbiamo eletto e allora deve avere ragione per forza. Vai donzelli, sì, così, raccontagliela, cantagliela. Ma chi dice così, sinceramente, ha una visione un po' piccola, se mi permettete il termine, una visione un po' da tifoseria da calcio. Qui stiamo parlando di fatti con delle valutazioni, indipendentemente che Donzelli sia di Fratelli d'Italia, della Lega, del PD, stiamo parlando di un parlamentare e di quello che ha fatto e quello che ha detto con tanto di leggi, con tanto di opinioni in base a delle cose reali. Quindi, per favore, smettetela di fare i tifosi da quattro soldi della politica, no? Il mio supereroe è un fedelissimo del mio supereroe e allora deve avere sempre ragione. Con i paraocchi, ragionate con la vostra testa. I tifosi, fateli allo stadio. Tifoso, fatelo allo stadio. Su queste cose, abbiate delle valutazioni coerenti, giuste. Io voto Fratelli d'Italia, ma quello lì è quello che è. Ecco. Da parte mia non troverete mai la difesa a priori di chiunque sia nel centrodestra, perché sennò diventerei uno zimbello, diventerei un quacquaraquà che fa il tifo e dice di qua tutti buoni e di là tutti cattivi, no? Cattivi, cattivi, cattivi. Forza Donzelli, cantagliela, raccontagliela. Sarei proprio un sempliciotto, eh? Sarei proprio uno da quattro soldi e invece non voglio fare questo. Vi racconto le cose per come le vedo. A me non me ne frega niente né di questo né di quel partito. Non so se l'avete capito. Che a me non me ne frega niente di nessun partito e di nessun politico. Io lavoro in piena e totale, totale autonomia. Non ho padroni, non ho squadre di calcio, non ho tifoserie. Sono io, il mio mappamondo, la mia lampada e commento le cose come mi pare e piace e soprattutto per come le vedo. I tifosi, fateli allo stadio. Arrivederci a tutti e grazie.